Buongiorno a tutte e a tutti. Ciao Alina. Buongiorno. Buon venerdì 10 maggio. Continuiamo con la lettura e il commento del libro di Udolin. Sì, siamo arrivati all'operatore la cooperazione tra pubblico e privato. È scritto molto tempo fa e oggi probabilmente il pubblico e il privato assumono un altro significato, ma penso che intuitivamente nell'opera di Udolin ci sia un'anticipazione rispetto a una rigenerazione del rapporto di cooperazione comunitaria tra istituzioni e cittadinanza attiva. Ma ascoltiamo quanto scrive Vladimir Udolin. Spesso, quando si parla di operatori, molti pensano che il sistema ecologico preferisca gli operatori privati, volontari, non professionali. Non è vero, come già detto, dal momento che sarebbe meglio che il coordinamento del lavoro dei club degli alcolisti in trattamento e dei programmi territoriali per i problemi alcol correlati e complessi nella comunità fosse nelle mani del medico di base. Questo è un passaggio straordinario e praticamente totalmente disatteso. C'è un'organizzazione del sistema dei programmi dei club che si focalizzi sulla primary health care, cioè sulle cure primarie che devono essere ovviamente coordinate da chi ha il compito di autotutelare e autopromuovere la salute nei luoghi esistenziali, nella vita comunitaria. Ovviamente siamo in una prospettiva molto utopica, visto come vanno le cose oggi e dove c'è un disinvestimento nei confronti proprio dell'assistenza primaria, della tutela e promozione della salute nella comunità locale. Il medico di base dovrebbe mobilitare gli operatori della salute fra i volontari e prendersi cura della loro formazione, aggiornamento e supervisione. Poiché questo non accade... È bellissimo il modo di procedere di Udoli sul piano logico, sarebbe bello ma questo non accade. Poiché questo non accade e gli operatori sanitari non sono preparati per tale lavoro e non sarebbero in grado di farlo da soli, sembra normale che il medico di base organizzi un gruppo nel privato, il quale dovrebbe cooperare strettamente con il pubblico. Non so che cosa abbia capito Alina, ma c'è un passaggio difficilissimo. Cioè il medico di base dovrebbe fare una intermediazione tra istituzioni e cittadinanza attiva, ma siccome nelle istituzioni non c'è una grande disponibilità, allora predispone un programma che qui viene definito privato e che io ridefinirei nei termini appunto della cittadinanza attiva. Quindi di fronte alla difficoltà o all'impossibilità ci si può organizzare. E qui dice l'operatore pubblico in base a questa cooperazione può fare l'operatore nei programmi privati e nei club degli alcolisti in trattamento dopo la formazione e l'aggiornamento. Anche qui Alina ci sono i programmi e i club, non sono la stessa cosa invece anche il mondo associativo dei club pensa che i club siano i programmi facendo un errore di impostazione. Si potrebbe avviare una convenzione tra il pubblico e le associazioni dei club degli alcolisti in trattamento, oppure con il centro alcologico territoriale se esiste. Il club autonomo nel suo lavoro potrebbe funzionare nell'interesse di entrambe le parti, entrando nella rete territoriale dei punti di appoggio per la protezione e la promozione della salute. Nuovo capitolo, l'etica nel lavoro dell'operatore. È un capitolo che andrebbe riconsiderato alla luce delle contraddizioni attuali, soprattutto dell'organizzazione di tutela e promozione della salute. Cioè già qui secondo me ci sono delle indicazioni, però bisogna tirarle fuori. Come in tutto il lavoro, quando si tratta di problemi personali o familiari, in una parola dei problemi umani di una persona, di una famiglia, di una comunità, l'aspetto principale deve essere proteggere la loro integrità, il loro benessere e la loro posizione sociale. Tutto questo significa anche proteggere il segreto ottenuto nel primo colloquio e più tardi durante il trattamento nel club. Quando si tratta dell'individuo, questo è più facile, ma quando si tratta dei gruppi e della comunità multifamiliare, diventa molto più complicato, perché è difficile aspettarsi che tutta la comunità multifamiliare sia in grado di proteggere la privacy di quello che avviene durante la seduta. Chissà cosa potrebbero pensare gli esperti di deontologia di questo punto. Sì, è anche il legislatore della privacy che si può garantire la riservatezza della singola persona, ma quando si entra nella dinamica comunitaria, soprattutto nel tempo della tecnologia, nella quale ti chiamano al telefono e tu non sai chi gli abbia dato il numero, ti fanno proposte che sono consone probabilmente ai tuoi bisogni, ma non riesci a capire come hanno fatto ad arrivarci. Quando vai su un social, dopo un po' ti arriva la pubblicità che consona a quelli che sono stati i tuoi comportamenti di acquisto di un prodotto o cose del genere. C'è una costante violazione della riservatezza nel tempo in cui si esaspera anche la riservatezza, che sì, il segreto va protetto, ma bisogna anche prendere atto che a volte è molto difficile. Esistono i conformisti della legge e dei regolamenti. Sarebbe interessante chiedere, allora come ve la cavate? Esistono molti altri aspetti dei problemi etici nel lavoro dei club, degli alcolisti in trattamento e dei programmi alcologici territoriali pubblici e privati che saranno ancora descritti. Nello sviluppo futuro dei programmi alcologici bisogna studiare l'aspetto etico e discuterlo lasciandogli uno spazio nei convegni alcologici. Strettamente legato ai problemi etici bisogna sottolineare anche gli aspetti spirituali, sotto i quali, fuori dello stesso aspetto religioso, bisogna includere la totalità della spiritualità umana. Ecco, anche questa totalità della spiritualità umana che nel mondo dei club qualcuno interpreta usando la parola semplicemente cultura. Sì, per carità, comprende anche la cultura, ma non basta questo. C'è qualcosa di molto più misterioso nella esperienza umana. E qui andiamo al capitolo delle conclusioni. In questa descrizione... Le conclusioni di questo capitolo. Le conclusioni del capitolo sull'operatore. Benissimo. In questa descrizione dei club degli alcolisti in trattamento non si può illustrare l'operatore e il suo lavoro in profondità. Si è pensato che sarebbe bene inserire almeno un paio di pensieri anche su questa figura chiave dei programmi per i problemi alcol correlati e complessi. L'operatore nei programmi alcologici seguiva e si adattava ai cambiamenti che avvenivano nei programmi territoriali per il controllo dei problemi alcol correlati e complessi. All'inizio era sufficiente la formazione ottenuta con i corsi di sensibilizzazione e qualsiasi cosa si facesse era meglio di niente. Ma con il passare del tempo il sistema si è modificato richiedendo all'operatore un continuo aggiornamento. Di pari passo anche la formazione e l'aggiornamento delle famiglie nei programmi cambiava seguendo i cambiamenti del sistema. Oggi all'operatore nei programmi alcologici si chiede di Continuare il lavoro nel club anche se svolge altre attività nel sistema come ad esempio insegnamento, ricerca, impegni nell'associazione dei club, ecc. Prepararsi bene per il lavoro nel club e negli altri programmi in particolare per la multidimensionalità della sofferenza umana. Questo è un punto interessante, prepararsi bene. Aggiornarsi con lo scopo di inserirsi come insegnante nelle scuole alcologiche territoriali e altri tipi di insegnamento Collaborare alle ricerche alcologiche Veicolare negli altri programmi alcologici le esperienze maturate e le ricerche svolte. In prospettiva, gli operatori nei programmi alcologici saranno prevalentemente volontari non professionali e molti parteciperanno alla formazione di secondo livello. Certamente lavoreranno con un numero crescente di famiglie con problemi multidimensionali. Oltre a ciò, sarà rivolta una maggiore attenzione alle qualità personali dell'operatore. Senza una modifica del proprio comportamento, egli si troverà in imbarazzo nel lavoro del club. In verità non possiamo standardizzare le caratteristiche comportamentali dell'operatore ma, in linea generale, egli dovrebbe essere in grado di suscitare empatia, di ascoltare, di non giudicare e di essere aperto a un contatto umano. Non c'è una risposta perentoria, nemmeno alla ricorrente domanda se l'operatore deve essere astinente. La risposta deve trovarla ogni operatore per sé, nel contatto continuo con le famiglie che soffrono per i problemi alcol correlati e complessi. Molte volte non è chiaro chi e come sceglie l'operatore per il lavoro nei club. L'approccio ecologico-sociale richiede soltanto l'espressione della disponibilità per tale compito da parte dell'interessato e che abbia portato a termine un corso di sensibilizzazione. Dopo di ciò un club potrebbe richiederlo e più facilmente lo faranno l'associazione dei club, un centro alcologico o almeno un operatore già inserito in club. Il motivo dell'invito è l'esistenza di un posto vacante. La scelta definitiva avviene dopo un periodo di rodaggio. In molte situazioni l'associazione o il servizio alcologico pubblico tendono a disporre dispoticamente del potere di nomina dell'operatore, dimenticando che in caso di cattiva scelta i membri abbandonano il club. Bisogna pertanto comprendere se club e operatore hanno trovato una lingua comune o se si è creata quella empatia di cui si è già parlato prima. Inopportunamente alcune associazioni hanno inserito addirittura nello statuto delle regole per la scelta dell'operatore richieste formali e tirocini più o meno lunghi in contrasto con il sistema ecologico-sociale che non accetta tirocini. Questo modo di fare consente manipolazioni, oltre che con i club e le famiglie, anche con gli operatori, che non hanno altri obblighi oltre quello di essere presenti regolarmente agli incontri di club e alle riunioni mensili degli operatori che servono per un aggiornamento e una autosupervisione o una supervisione reciproca. L'operatore che non riesce ad adempiere tali impegni farebbe meglio a lasciare il lavoro nel club, oppure occorrerà chiederglielo. In conclusione di questa descrizione dell'operatore si può dire, e qui riassume quattro punti, e poi abbiamo finito con questo capitolo. L'operatore nel club degli alcolisti in trattamento e negli altri programmi alcologici territoriali è indispensabile come catalizzatore del cambiamento. In relazione al grande numero di programmi e alla loro crescita continua, esiste la necessità di avere molti operatori, sia del pubblico che del privato. Per loro bisogna pianificare la formazione e l'aggiornamento con la possibilità di una supervisione nel loro contesto ordinario, come già proposto e accettato durante la prima assemblea nazionale del club degli alcolisti in trattamento a Salerno. Secondo punto. A parte formazione e aggiornamento professionale, l'operatore nei programmi alcologici deve possedere le qualità umane necessarie per la catalizzazione del cambiamento, dello stile di vita delle famiglie nei programmi. Parallelamente al cambiamento delle famiglie va anche il cambiamento, la crescita e la maturazione degli operatori e delle comunità territoriali. Con questo il club dà la possibilità ai suoi membri di aspettare con serenità la vecchiaia, che altrimenti senza il club non potrebbero realizzare. Terzo punto. La sofferenza umana è sempre multidimensionale. I club, le loro associazioni e gli operatori devono nel futuro occuparsi di più anche dei problemi incrociati prima di tutto delle famiglie dove i problemi alcol correlati vengono combinati con un problema psicologico o con l'uso delle altre sostanze o con altri tipi di comportamento a rischio. Questo richiede all'operatore non solo una professionalità, ma anche una profondità umana. E ultimo punto, poi chiudiamo. Il lavoro nei programmi alcologici territoriali incontra i problemi più intimi della personalità e del rapporto nella famiglia e nella comunità. Questi richiedono un'etica eccezionale dell'operatore. In questo senso bisogna parlare anche della spiritualità in senso generale, umano. A questi aspetti i club devono dare una prevalenza nel loro lavoro futuro. Un'attenzione particolare nella formazione e aggiornamento degli operatori deve essere riservata alla spiritualità antropologica e al disagio spirituale ed esistenziale, come sarà descritto più tardi. Credo che sia un capitolo molto complesso e che è stato intrecciato con molta intelligenza e sensibilità relativamente alle molte contraddizioni che ci sono nell'essere umano e che sono riflesse anche nell'azione del servitore insegnante. Qui usa ancora la parola operatore, poi successivamente verrà introdotto il termine servitore insegnante. Credo sia necessario riprendere anche una formazione, una sensibilizzazione che tenga conto della multidimensionalità della sofferenza umana reinterpretata nella contemporaneità, perché i sintomi si sono molto modificati. è chiaro che le condizioni esistenziali contraddittorie, conflittuali e sofferenza hanno sempre una matrice comune che riguarda la visione del mondo che deve essere umaniato, ma poi le modalità espressive cambiano. Quindi mantenere la sostanza in un processo evolutivo costante sarebbe quanto mai urgente che ci fosse un'offerta di corsi di sensibilizzazione su problematiche specifiche, a partire soprattutto dalle complesse questioni che riguardano la salute globale e la salute mentale. Cosa ne dici, Erlina? Sì, forse adesso leggendo anche questa parte sull'operatore e la multidimensionalità come necessità anche che non può essere elusa nell'affrontare questa multidimensionalità umana che passa chiaramente per la salute mentale e quindi per la sua dimensione spirituale e culturale anche. Quindi penso che sì, vanno fatti dei passi avanti in questa direzione. C'era anche un passaggio particolarmente interessante e emblematico i tirocinanti. Ecco, io credo che anche una persona che sta svolgendo un tirocinio può essere invitato al club se non va da tirocinante ci va sul piano strettamente personale facendo un'esperienza che può durare certo periodo di tempo ma che anche può prolungarsi se si trova bene in quel club e nella quale semplicemente non fa l'osservatore non va ad apprendere una tecnica parla di se stesso e condivide la propria esperienza esistenziale con i membri di club e come tutte le esperienze di club indipendentemente dalla durata sono sempre esperienze particolarmente feconde rispetto alle prospettive che ciascuno può darsi sia un'occasione la vita del club per riflettere sulle nostre esistenze pertanto non va escluso l'ingresso di una persona che sta svolgendo un percorso un periodo di tirocinio e va accolto e gli va chiesto ovviamente la disponibilità come tutti gli altri membri di club di mettersi in discussione nel periodo in cui è al club e poi lo si invita anche se vuole continuare nel luogo dove ha iniziato l'esperienza o altrove proprio l'esperienza del club cosa ne pensi Aline? Sì, penso che sia anche penso che sia anche una possibilità per rivalutare anche quello che Udolin dice all'inizio della parte che abbiamo letto oggi sulla professionalità perché è vero che le professioni soprattutto sanitarie molto spesso non si mettono in discussione soprattutto per quanto riguarda l'uso di bevande alcoliche o la loro epistemologia la loro visione di questi problemi però dall'altra parte dobbiamo dare la possibilità anche a chi è in formazione nelle professioni anche sanitarie di poterlo fare coinvolgendosi in prima persona ecco quindi io non escluderei a prescindere sono d'accordo va bene allora prima di tutto vi ricordo domani pomeriggio sabato undici continuo a ripeterlo cerchiamo di essere presenti numerosi perché sarà un dialogo anche tra le generazioni e avrà come argomento proprio il liberare il futuro da qualsiasi ingombro ipoteca che il mondo precedente alle generazioni che si apprestano al futuro quindi diciamo adulti e vecchi sono invitati adulti e vecchi nei confronti delle generazioni future a essere disponibili a sgombrare il campo dalle prospettive evolutive del futuro questo richiede una rivisitazione dei propri comportamenti e delle proprie idee lasciamo liberi libero il futuro al suo divenire perché questo credo rappresenti anche l'essenza dell'ecologia sociale antropo spirituale eliminiamo le parole appropriazione riappropriazione che è una tentazione umana non c'è nessun dubbio ma è profondamente conservatrice e antievolutiva domani alle 14 sabato ricordo perché ormai da anni ci si era abituati alla domenica ma per il periodo primaverile estivo lo faremo il sabato pomeriggio vi aspettiamo tutte e tutti anche ovviamente online e buona giornata a tutte e a tutti a domani a domani a domani a domani Grazie.